Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Sul fronte delle riforme per la giustizia qualcosa comincia a muoversi. Oggi c'è stato questo lungo colloquio tra il guardaseggilli Carlo Nordio e la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Buongiorno. Ecco, siamo proprio qui con lei per capire che cosa è successo oggi e se si è sbloccato davvero questa possibilità. Insomma, di fare le riforme sulla giustizia in tempi brevi. Tanto grazie. Sì, effettivamente credo che oggi si sia fatto un passo avanti perché il centrodestra si è presentato agli elettori con un programma di riforme ispirato al garantismo. In base a questo nuovo incontro credo che ci sarà un po' un'accelerazione. Si tratta di una riforma organica ampia su alcune tematiche. Ovviamente è il primo passo, cioè non si esauriscono con questa riforma quelli che saranno gli interventi. Tra l'altro uno dei temi di questa riforma è quello delle misure cautelari. Voi ricorderete che la Lega si è battuta con un vero e proprio referendum per cercare di correggere alcune distorsioni di questo istituto. Quindi benvengano queste riforme. Ecco, ma poi si è saputo che da questo incontro è emersa anche la volontà di Nordio di andare avanti con la riforma sui reati contro la pubblica amministrazione. Quali sono in realtà i reati che verrebbero toccati e quali sono gli obiettivi? La Lega ha sempre ritenuto essenziale che si facessero delle vere riforme garantiste. Un reato deve essere qualcosa di illecito, chiaramente descritto nelle norme. La materia dei reati contro la pubblica amministrazione è fatta da una serie di reati che in realtà a nostro avviso non hanno quelle garanzie in termini di tassatività che sono necessarie e quindi bevega questo intervento. Noi eravamo un po' contrari a semplici riforme di un reato. E allora se invece c'è questa apertura che ci è stata data oggi, una riforma ad ampio respiro su tutti i reati contro la pubblica amministrazione, noi siamo pronti ad andare incontro a quella che è stata una idea del Ministro che ha voluto portare avanti della vera e propria abrogazione dell'abuso d'ufficio. Personalmente io avevo delle perplessità inizialmente appunto a fare un piccolo ritorno a un singolo reato, ma adesso sono molto rassicurata dalle parole del Ministro ecco perché c'è il via libera della Lega, perché abbiamo visto nel Ministro un forte convincimento ad aprire una vera e propria riforma a 360 gradi. Ecco, sull'abuso d'ufficio c'è già una proposta di legge all'esame della Commissione Giustizia della Camera, prima firma del responsabile giustizia di azione Enrico Costa che addirittura oggi ha detto bene se c'è questo via libera da parte della maggioranza tutta su questo tema, io metto a disposizione questo mio provvedimento a loro, insomma ecco che lo firmino pure, gli metto a disposizione questo testo. Ecco, c'è la possibilità che questo avvenga oppure il Governo ha già dei provvedimenti pronti che insomma presenterà a breve in Parlamento? Guardi, oggi con Nordi abbiamo parlato del perimetro della riforma, nel senso che la richiesta della Lega era quella di allargare il perimetro a una serie di istituti e non concentrarci a una minima riforma sul singolo reato. Poi per quanto riguarda specificamente il reato abuso d'ufficio, in realtà Nordio ha le idee chiare, non credo che abbia bisogno di testi presi a prestito, per carità benvengano tutte le idee, però insomma il Ministro non credo affatto che abbia bisogno di qualcuno che gli scriva un testo. Devo dire che però io sono particolarmente ottimista perché nell'ambito di questa riforma non ci si limita ad analizzare, come le dicevo, questa fattispecie incriminatrice, ma si esaminano le intercettazioni in parte. In parte si affida proprio con un colloquio che c'è stato oggi con Nordio alla mia Commissione, Commissione Giustizia al Senato, che da mesi sta svolgendo un approfondimento, il compito anche di fare una vera e propria riforma sulle intercettazioni che poi sarà unita a quel tipo di riforma che invece riguarda soltanto la riservatezza che farà parte del pacchetto. Poi ci saranno una serie di misure, ma tutte improntate al garantismo, sia per quanto riguarda le misure cautelari, sia per quanto riguarda l'appello. Anche la Lega ha sempre sostenuto la necessità, io l'avevo sempre votata, questa legge di abolire o limitare comunque l'appello del pubblico ministero, salvo che per alcuni reati. Stiamo attenti perché poi, se no si danno delle notizie non corrette, si tratta di una riforma che incide sull'appello, ma non su tutti i reati. Ma tornando un attimo all'abuso d'ufficio, si andrà verso una depenalizzazione o un'abrogazione to court del reato? Guardi, c'erano due proposte, come sapete, che stava portando avanti Nordio. Una era quella che effettivamente aveva sempre annunciato il ministro, la seconda, quella di una rimodulazione della fattispecie, era probabilmente quella che voleva una parte della maggioranza. Aspettavano da noi il via libera per andare sulla prima soluzione, quindi alla luce del nostro via libera mi sembra evidente che sposeranno la soluzione all'abrogazione. Perfetto, e tornando alle intercettazioni, che invece ha detto una cosa molto importante che non si sapeva, c'è la possibilità che la Commissione o lei o chi per lei metterà appunto proprio un testo di riforma delle intercettazioni da allegare poi a questo pacchetto del ministro. Che tempi si presumono e che tipo di timing? Allora, intanto il pacchetto del governo va avanti autonomamente dalle riforme parlamentari. Credo veramente che si tratti di pochi giorni prima di un'approvazione, però su questo ovviamente dovete chiedere al ministero. Poi abbiamo avuto da parte del ministro un'indicazione di andare avanti con questo lavoro perché ha apprezzato il lavoro certosino che ha fatto la mia commissione, non è un lavoro solo mio, ma di tutta la commissione. Noi crediamo che la regolamentazione attuale è una regolamentazione in cui non si tiene conto della tecnologia, le leggi sono lente, la tecnologia è veloce e quindi siccome una delle volontà di tutta la maggioranza era quella di migliorare il sistema delle intercettazioni, metteremo mano anche a queste, non per cancellarle, guai a cancellare le intercettazioni. Si tratterà di una riforma che, te racconto, di una serie di indicazioni che sono arrivate sia dagli esperti, sia dai tecnici, sia dai magistrati stessi. Quindi credo che sia una riforma che non si potrà dire una riforma alle intercettazioni diretta, cancellare o ampliare, una riforma che cercherà di adeguare le leggi alla tecnologia.